Sette nomi su otto, tre conferme, quattro novità e la vicepresidenza ancora da assegnare. Sono le anticipazioni del presidente della Toscana Enrico Rossi sulla composizione della nuova giunta. Le conferme sono gli assessori Vincenzo Ceccarelli, Stefania Saccardi e Vittorio Bugli. Le novità invece sono Federica Fratoni, già presidente della provincia di Pistoia, Marco Remaschi, Lucchese, consigliere regionale già dal 2005, Stefano Cioffo, ingegnere di Prato, dove è stato assessore all'urbanistica e la nuova entrata è Cristina Grieco, dirigente scolastica livornese. Direi una giunta solida, una giunta che si può mettere al lavoro, che ha un buon mix di competenze, di riconferme. Io confido molto sulla capacità di entrare immediatamente nel lavoro da parte di questa giunta. definirei una giunta seria, solida, che può dare degli ottimi risultati alla Toscana. Non sono state divise ancora le deleghe attribuite ai vari assessori. Il presidente Rossi terrà per sé l'editoria, i rapporti con l'Europa e soprattutto un tema delicato come quello del lavoro. Per l'importanza che ha il lavoro, credo che sia giusto che sia il presidente ad occuparsene. So che ci si mette in tante situazioni difficili, ma è giusto farlo, perché quando si può si deve vincere insieme a lavoratori e quando si deve perdere, si deve perdere insieme.